è avvenuto un miracolo presta attenzione perché rimarrai sconvolto un signore di 79 anni una settimana prima del suo ottantesimo compleanno si trovava nella chiesa di santa maria mediatrice in attesa che le persone uscissero al tinire della santa messa voleva rimanere solo in chiesa per pregare la vergine maria e chiederle un miracolo l'uomo era molto malato un tumore aveva ormai colpito la maggior parte dei suoi organi vitali tutta la sua famiglia lo aveva lasciato solo trattandolo come già morto a lui rimaneva solo la fede questa era tutto per lui per tutta la vita aveva lavorato sodo perdendo i suoi genitori all'età di 10 anni si riede sempre da fare e l'unica sua ancora di salvezza era la fede così decise di rivolgersi a maria per un ultimo disperato aiuto i medici gli dissero che non aveva più di una settimana perciò passò i suoi ultimi giorni a pregare quando ormai tutti se ne furono andati l'uomo mentre si trovava in ginocchio con gli occhi chiusi avvertì una luce fortissima illuminarlo aprì gli occhi e vide la vergine maria proprio davanti a lui era vestita con un abito bianco e azzurro aveva le mani rivolte verso di lui e un'espressione sollevata gli disse hai passato tutta la tua vita a fare del bene alle persone che amavi e ora ti ritrovi a morire da solo pensi che io tua madre permetterei questo non è ancora giunta la tua ora hai ancora tanti giorni da vivere e lo farai nel pieno della tua salute io vi amo e vi proteggo figli miei non permetterò mai che ve ne andiate in modi ingiusti soffrendo da soli al freddo o nella malattia io sarò sempre qui con voi qualsiasi cosa accada voi abbiate fede in me e pregate ogni giorno rivolgendo lo sguardo al cielo è da lì che io vi osservo e vi proteggo l'uomo sbatte le palpebre e maria se ne andò lasciando dietro di sé una scia di luce e un profumo dolce e intenso l'uomo non poteva credere a ciò che era successo lo raccontò ma in pochi gli crederono tuttavia i medici non si spiegarono come l'uomo guarì improvvisamente e si rimise in salute come mai prima d'ora